Vai, sei. Elia Clementi, Full Series 2018, categoria Scalette, WOD 2A e B. Oggi ci sono anche i miei misi. 20, 5, 10, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 28, 24, 29, 29, 29, 29, 29, Sì 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 Metti un po' più indietro quello Ok Questo qui mettilo leggermente inclinato Così? Così si vede bene l'arca Un po' troppo forse adesso Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ma ieri eh 30 secondi Sì Finiste Guardate Sì Va bene Se vedete le gambe che non vanno su un piede e passa tipo una volta, non lo vedete? Sì 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 Eh lì, gambe, una spalla Mi distante le squadre Spinta per le gambe 3 2 1 Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 12 12 12 13 13 15 15 16 15 16 16 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 24 23 24 Vedi Senti Quanto? Stop Stop Uno Due Due Tre Vani Cinco Senti Sette Otto Vedi Nove Dieci Unici Tornici 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 Fatadici il ultimo ili Ok Tornici 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 Poxi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai parti subito, 9, 10, acceleriamo, 11, 12, 13, 14, 15, non guardare il tempo, dai concentrati. Dai, 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 dai. Dai, dai, aspetta i pesi. Aspetta che facciamo vedere i pesi Aspetta che facciamo vedere l'1 1 5 15 20 20 1 5 5 5 5 5 6 7 8